Giudizi, doppia munizione, io non credo, cioè gli hanno dato tre giornate e qual è la motivazione? Doppia munizione e offese e reiterate, non ti dà. Cosa devo dire? Devo dire che per la doppia munizione ci stava e credo che non meritasse di essere espulso. Se ha offeso l'arbitro e veramente è successo questo, io ne parlerò con lui. Spero che non sia successo, perché se è successo è una grande mancanza da parte sola.